Finora è l'unica compagine di terra di lavoro nel panorama del basket femminile che si sta muovendo con netto anticipo e oltretutto con molta precisione. Se il centro di Anna Maddaloni sta confermando tutto il gruppo della passata stagione, il ginnasio e le presi con una vera e propria rivoluzione societaria, prima ancora che tecnica, arriva la matricola Family Casa Giove, il cui lavoro è sotto gli occhi di tutti. Un club che sta facendo quadrato per costruire un roster in grado di togliersi subito delle soddisfazioni nella prima stagione tra le big della palacanestro femminile italiana. Partendo dalla conferma del blocco tecnico che benissimo ha fatto sotto la guida di Coccio Riccardo Sacco, agli arrivi della gladiatrice Chiara di Cresce e della giovane ma affidabile regista Donatella del Gaudio. Ma non si è certamente fermata qui la campagna acquisti e si è ancora attinto al ginnasium prelevando Roberta Margio, play guardia classe 1988. Intanto sono stati diramati i girondi nel campione di serie B femminile, che vedrà protagoniste ben tre formazioni casertane, centro Diana Maddaloni, ginnasium e come dicevamo la neopromossa Femmini Casa Giove. Il raggruppamento M è composto per undici dodicesimi da club campani, l'unica intrusa si fa per dire è la Basilia Basket di Potenza. Cambiata anche la formula alla fine del giugno di ritorno, prima e seconda ai playoff, la terza spareggerà con la terza del girone Calabria Sicilia per accedere alla pool promozione. La perdente con la quarta, quinta, sesta, settima e ottava parteciperà a un barraggio per entrare a far parte della Lega di Sviluppo, che la FIP ha organizzato per il 2012-2013. L'ultimo invece retrocederà direttamente, penultima e terzultima si contenderanno, l'ultimo posto per la salvezza, insomma tutte saranno protagoniste fino alla fine. L'ultimo invece retrocederà...